Ben trovati, sono Carlo Ventura, insegno biologia molecolare qui all'Università di Bologna, alla Scuola di Medicina e dirigo un laboratorio di bioingegneria delle cellule staminali, quindi ci occupiamo di medicina rigenerativa e nel nostro percorso abbiamo cercato di trovare strade innovative alla rigenerazione cardiovascolare. Nasco infatti come cardiologo tanti tanti anni fa. La nostra attività di ricerca da molto tempo è focalizzata sull'aver trovato che cellule in genere, ma anche le cellule staminali, sono particolarmente sensibili a energie fisiche, a oscillazioni meccaniche, udibili e non, a campi elettrici, a campi magnetici e in quest'ambito anche la radiazione luminosa. Non solo sono sensibili a queste energie, ma le producono loro stesse. Quindi da qui l'idea di una medicina rigenerativa che si basi sul potere diffusivo di queste energie fisiche che possono facilmente penetrare nel corpo umano raggiungendo le cellule che si trovano in ogni tessuto. In ogni tessuto abbiamo anche cellule staminali, infatti parliamo di cellule staminali tessuto residente. Quindi per noi decodificare come una cellula staminale possa trasformarsi in una cellula cardiaca nervosa, in pratica in tutti i tipi cellulari che compongono un individuo adulto, è qualcosa che stiamo facendo non più solo con gli occhi della chimica, ma guardando alla nostra biologia anche con gli occhi della fisica. Questo ci ha fatto vedere come il mondo della biologia sia in realtà pervaso da vibrazioni mutanti che cambiano di continuo, ma che racchiudono un codice, un codice che si può decifrare. Questo codice ci racconta di questo percorso di trasformazione, che è anche un po' la metafora continua delle nostre vite. Questo codice che potremmo a buon diritto definire codice morfogenetico è qualcosa che possiamo decifrare per poter parlare con il linguaggio della fisica, ma anche il linguaggio dell'armonia alle nostre cellule, per riprogrammarle dove già stanno e quindi usare la fisica per raggiungere le cellule staminali tessuto residenti e attuare una medicina rigenerativa che non abbia più bisogno, almeno in prima istanza, del trapianto di cellule e tessuti, ma che vada a potenziare qualcosa che abbiamo tutti, cioè una capacità intrinseca di autoguarigione. Nel fare tutto questo ci siamo resi conto di questa grande armonia, di questa meraviglia che pervade il mondo biologico, fatta, come dicevo, di vibrazioni coerenti, è come se fosse una melodia, è per questo che vi parlo di selmelodies, melodie cellulari, che non riguardano solo la vibrazione meccanica, ma anche l'alternanza di campi elettrici, campi magnetici, anche questa è una sinfonia particolare, vedremo come i colori, le luci, che sono radiazioni elettromagnetiche, hanno anche qui il senso della armonia. Tutto questo ci ha portato nel corso di tanti anni a sviluppare un percorso transdisciplinare in cui artisti e scienziati vivono insieme, disegnano insieme gli esperimenti, si influenzano ognuno gli altri, facendo in modo che la bellezza di ciò che scopriamo in campo scientifico sia suggestione per l'artista di nuovi paesaggi e che il viaggio del cuore, della mente dell'artista sia per noi una guida per capire più a fondo quello che altrimenti non avremmo neanche mai lontanamente approcciato attraverso il riduzionismo scientifico.